Signori, bentornati in un nuovo video flash. Arrivano voci dall'Oriente, che dopo il torneo nazionale tenutosi in Giappone, annunciano restrizioni e banditure per alcune carte che vedrebbero leader presenti in Tier 1, come Kata e Sagazuki, ricevere un brutto colpo. Dalle prime indiscrezioni, gli elementi che dovrebbero, parlo al condizionale perché sono solo supposizioni, essere limitati o esclusi, bilanciando così il meta futuro, rendendo le dinamiche di gioco più soppesate, sono Rebecca, Luce e Moria Character. Questi andrebbero a privare la stragrande maggioranza di mazzineri puri o che condividono questa tonalità con altre, di punti di riferimento piuttosto fermi. Sagazuki, fra tutti, ha dominato in molti tornei, locali nazionali e internazionali, sia in Asia che in Occidente, e ciò non ha fatto bene, anche e soprattutto in previsione del mondiale che si terrà in formato OP05, e che spingerà sicuro molti espiranti re dei pirati a vertere proprio sul grande ammiraglio per giocarsi il titolo finale. Se così sarà, non è escluso che la Bandai punti un bel mirino pronto a sparare dei ban verso il magmatico, o limitargli delle armi così da depotenziarlo. Anche il giallo comunque potrebbe perdere una bandiera che lo accompagna dalla sua comparsa. La Big Mom a 10 potrebbe, infatti, vedersi limitare ad una sola copia per deck, dato che i vari corsari hanno una relazione di amore e odio verso questo personaggio, è da oramai mesi che si implora la casa madre di arginare il suo potere distruttivo, soprattutto se utilizzata in più turni. Sarà lei il prossimo obiettivo della lista temuta da ogni TCG che si rispetti? Ultima, ma non per importanza, sarà la Moby Dick. In che senso, Arconte? È già una carta bandita. Cosa vogliono fare? Dannarne la memoria? Al contrario, sbannarla. La nave di Barba Papà è stata la prima carta assieme a Kabaji ad entrare nella Banned per motivi più che ovvi, semplicemente troppo forte nel late game. Ma visto che comunque in questi anni il meta si è evoluto e potrà rispondere adeguatamente al ripristino di tale carta, si potrebbe valutare un ritorno in grande stile di una delle stage più forti di questo GCC. Concludendo, ricordiamo che queste sono solo supposizioni e nulla è certo. Avremo un dato affidabile una volta che il mondiale del TCG di One Piece sarà giunto al termine, quindi attorno alla prima settimana di marzo. Sì, inizieranno il 3, quindi fra poco meno di un mese. E solo allora, con i dati alla mano, vedremo se la Bandai prenderà provvedimenti o resterà tutto così com'è. Un altro dato da tenere bene a mente sarà la differenza di scelte tra il meta asiatico e quello occidentale. Ma è quasi assicurato che, se dal team di OP giapponese verrà promossa una nuova lista, anche qui da noi si seguirà lo stesso format. Staremo a vedere. E voi, siete d'accordo con queste speculazioni? E quali carte vorreste vedere tra le proibite e limitate? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Inoltre, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram e TikTok se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal crogiolo.